salve buongiorno a tutti vediamo la situazione sul titolo statunitense monster beverage titolo che è quotato al nasdaq ed è importante in questo caso ecco come mostriamo sempre nel webinar a disporre di un broker e quindi di una mt5 di una metatrader 5 come abbiamo noi con il nostro broker xm che offre una ampia un'ampia scelta sui titoli azionari di tutti i mercati mondiali e potendo poi aggiungerne man mano altri appunto andando in basso nella sezione cerca e digitando il titolo che che ci occorre xm offre oltre 600 titoli azionari di tutto il mondo quindi ecco sia più facilità con analisi tecnica andare a cercare opportunità che ci interessano in base alla nostra operatività al nostro trading system proprio perché sia una più ampia scelta per andare a visionare i grafici ecco quindi vi consiglio anche di contattarci per operare con xm anche direttamente dal tasto whatsapp della nostra app monster beverage interessantissimo il titolo qui abbiamo il time frame daily il titolo è andato sui massimi dopo un uptrend estremamente ripido e importante è quello che in primis possiamo andare a vedere che inserendo i volumi sulla penultima candela di giovedì quindi la candela più ribassista quella che detta probabilmente il cambio di breve medio periodo abbiamo volumi molto importanti quindi una candela che dobbiamo diciamo decifrare come una candela che effettivamente può dare la svolta ribassista altrettanto interessante è vedere utilizzando il macd per lo meno come lo utilizziamo noi per individuare le inversioni e le divergenze di medio periodo quindi settato a 32 e a 200 vedere come vi sia una chiarissima divergenza ribassista tra i due massimi relativi di prezzo massimo relativo e massimo assoluto e tra i massimi del mac di altro segnale che ci va a confermare il fatto che probabilmente siamo di fronte solamente all'inizio all'inizio della discesa ancora più interessante poi vedere la situazione tramite la griglia di fibonacci da questo minimo questo massimo relativo discesa e nuovo massimo assoluto e in questo caso è eccoci qua interessante vedere come da questo minimo l'estensione al 100% porti poi il ritraccio esattamente al livello più importante al 61,8 con questo doppio minimo per avere poi la riportenza che si estende fino al livello successivo in maniera estremamente precisa al 161,8 per cui 0, 100, 61,8 e 161,8 precisissima e quindi ecco avendo avuto adesso la ripartenza ribassista potrebbe essere raggiunto anche il 100% per cui ogni eventuale pullback verso l'alto potrebbe essere una occasione per ingressi al ribasso con stop loss sopra questo livello con target al 100% ma ancora altrettanto interessante è la situazione sul time frame weekly e andiamo a pulire il nostro grafico per rilavorarlo sul sul weekly e in questo caso andiamo a inserire il il momentum che ci ci offre come oscillatore che tende ad anticipare alcuni movimenti importanti di prezzo ci offre anch'esso una visione estremamente estremamente precisa eccoci qua anche il weekly ci dà una divergenza ribassista estremamente chiara addirittura ce la dà anche abbastanza prolungata ma ancora più interessante a vedere come le ultime tre candele sul weekly eccoci qua formino un chiaro pattern ribassista siamo di fronte a una evening star che è situata eccoci qua le tre candele che è situata in cima all'up trend e questo livello non da ultimo altrettanto importante è semplicemente un livello che rappresenta la parte alta di un canale estremamente preciso vedete proprio sono rette parallele precise e quindi abbiamo testato la parte alta del canale con un pattern ribassista con varie divergenze come abbiamo visto anche sul time frame daily e questo livello come abbiamo visto potrebbe essere l'estensione del 161.8 di fibonacci sempre sul daily per cui abbiamo una serie di situazioni che ci fanno appunto presupporre che si potrà avere una discesa e una operatività interessante potrebbe essere attendere per vedere se dovessimo avere un ritraccio rialzista solitamente a metà candela della della terza del pattern per cercare poi ingressi dei bassisti posizionando lo stop sopra i massimi assoluti del pattern buon trading a tutti